Eva Angel in nomination, il gesto della figlia Mercedes per salvarla Eva Angel subito nominata lisola dei famosi, il messaggio di Mercedes. Mercedes. È andata in onda ieri 22 gennaio 2018 la prima puntata dellIsola dei famosi, reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Eva Angel e Marco Ferri sono stati i primi nominati della nuova edizione del reality. A sostenere l'attrice ci ha pensato la figlia, Mercedes. Ha postato un messaggio su Instagram dedicato alla donna dicendo di dover lottare sin da subito. Stando alle parole della ragazza Eva merita l'opportunità di dimostrare a tutti la sua vera personalità attraverso l'isola. Ha poi aggiunto che la madre è una persona dolce, altruista, simpatica e intelligente, proprio per questo motivo non meritava di finire in nomination nella prima settimana. Mercedes chiede aiuto e sostegno ai fan per permettere alla madre di continuare a partecipare al reality. Eva Angel è andata in nomination scelta da Francesco Monte, Marco Ferri invece per volere del gruppo. Monte sembra essere l'unico dalla parte di Marco, gli altri naufraghi lo accusano di protagonismo. . Durante la diretta Alessia Marcuzzi voleva conoscere le ragioni delle nominazioni ma essendo già fuori tempo Massimo non ha potuto approfondire la cosa. Mercedes ieri sera si trovava negli studi di Cologno Monzese per sostenere la madre. . La dedica è infatti accompagnata da una sua foto che lo dimostra. .